a me si è piaciuto sai scusa alla terapia di gruppo ah si? ma perché? perché ha saputo dire la verità che qui ci stanno prendendo per il culo dicono tanto che lo fanno per il nostro bene ma in realtà vogliono solo farci diventare come loro e tu invece come vorresti diventare? perfetta vorrei perdere altri 5 forse 6 kg grazie